Il primo atto che ho fatto con questa nuova avventura è stato quello di dimezzare le indennità, scarne indennità di sindaco, assessori, Presidente del Consiglio Comunale per costituire un fondo di solidarietà nel sociale, 100.000 euro l'anno. Riorganizzazione e organizzazione dell'Ufficio Europa, un ufficio che avevo creato nella scorsa avventura e che oggi abbiamo potenziato. Sabato scorso c'è stato un convegno, un incontro con tutti gli amministratori alla Sala Bozzi, la presenza del Rettore D'Amico e del Governatore Luciano D'Alfonso per stipulare la convenzione fra tutti i comuni. Qual è l'obiettivo? Andiamo in soldoni. In questi anni il Governo centrale e il Governo regionale hanno tagliato i fondi ai comuni, sappiamo. Facciamo un esempio, a Giulianova nel 2010 o anche a Roseto pervenivano 5.400.000 euro di trasferimenti, oggi 1.400.000 euro di tagli e in misura proporzionale nei comuni d'Italia questo è stato. Ora io dico non bisogna fasciarsi la testa, bisogna ottimizzare la spesa ma bisogna trovare quelle risorse che mancano attraverso lo strumento del finanziamento europeo. Negli scorsi 5 anni in questa direzione noi abbiamo ottenuto circa 6 milioni di euro di finanziamenti da bandi, partecipando a bandi e con quelli stiamo facendo tante opere, per esempio la messa in sicurezza antisismica di tutti i plessi scolastici che già abbiamo fatto e continuiamo a fare, la costruzione di alloggi a canone concordato, insomma tante cose, senza l'Ufficio Europa. Oggi abbiamo l'Ufficio Europa ma non deve essere solo una struttura a servizio della comune di Giulianova, io l'ho messo a disposizione di tutti i comuni che vorranno aderire a questa convenzione che verrà stipulata con il governatore e con il rettore.